Sul taglio delle piante non si scherza. La pratica, una delle più pericolose anche secondo i professionisti del settore, viene invece spesso sottovalutata. L'inosservanza di alcune delle regole basilari, fra le quali la mancanza dell'equipaggiamento di sicurezza e un errato calcolo della direzione di caduta degli alberi, possono causare tragiche fatalità. Esistono in provincia, oltre alle comunità montane, realtà nate appositamente per fornire corsi e approfondimenti specifici. Fra le prime a sorgere a Sondrio, 15 anni fa, la società cooperativa denominata Istruttori Forestali Lombardi, che offre corsi specifici sulla sicurezza nel taglio delle piante. Il loro obiettivo è chiaro, fornire competenze tecniche non solo agli esperti ma soprattutto ai non addetti ai lavori. Il nostro gruppo è la cooperativa ISFOL, istruttori forestali lombardi, è nata nel 2003, siamo 12 istruttori, di cui 5 abbiamo fatto un corso nel 2014. Di questi 12 sono tutti titolari di imprese boschive, dei professionisti che lavoriamo nel campo tutti i giorni. Il nostro obiettivo come istruttori non è quello che tutti siano boscaioli, ognuno deve sapere e deve arrivare al suo limite. Numerosi corsi offerti, da quelli per l'utilizzo corretto della motosega, a quello per la conduzione di gru a cavo forestali. Ed è proprio grazie ad uno di questi corsi che David Mottini ha saputo conoscere a fondo questo settore, tanto da farlo trasformare nella sua principale attività lavorativa. Ai tempi lavoravo un po' nel bosco con mio nonno così come capitava e poi nel 2008 sono stato iscritto a un corso forestale da parte che faceva l'ISFOL e dopo quel corso lì diciamo che mi ha cambiato la vita, ho cominciato, ho lavorato per un'impresa boschiva in Svizzera per due anni, poi ho aperto la mia impresa boschiva, noi lavoriamo un po' nel territorio di Livigno oppure un po' anche a Tresivio, ci occupiamo di manutenzione del territorio, tagli, abbattimenti, tutte queste cose qua, mi sono attrezzato e poi come ultimo obiettivo sono diventato istruttore forestale.